Interramento dei binari nelle aree urbane più antropizzate o, in subordine, delocalizzazione del tracciato. Sono sostanzialmente le richieste principali avanzate oggi dal Comitato dei Sindaci alla rappresentante del Ministero, Yolanda Romano, fresca di nomina nel ruolo di coordinatrice del dibattito pubblico. Quello di questa mattina è stato il primo di una serie di incontri che andranno avanti fino a fine aprile. La Romano, dopo l'ascolto dei territori, trasmetterà il rapporto alla conferenza dei servizi dedicata proprio al raddoppio della Ferrovia Pescara-Roma. Nei giorni scorsi si era costituito il Comitato dei Sindaci, Diego Ferrara per Chieti, Giorgio De Luca per Manoppello, Giorgio Di Clemente per San Giovanni Teatino, Maurizio Giancola per Scafa e Oscar Pezzi per Alanno, tutti fortemente critici nei confronti del progetto presentato da RFI. I primi cittadini non sono contrari all'opera in sé, ma puntano alla modifica in particolare sollecitando l'interramento del percorso nel tratto di San Giovanni Teatino e Chieti Scalo fino all'intersezione con la statale 656. Da qui il tracciato tornerebbe in superficie per proseguire verso l'interporto bypassando gli abitati di Brecciarola e Manoppello Scalo. Il presidente della regione Marco Marsilio, presente all'incontro di oggi, si era già detto aperto al confronto a patto di non perdere l'occasione per realizzare l'agoniato raddoppio. La presenza della dottoressa Romano, anche con 15 giorni di anticipo rispetto all'avvio formale della procedura di dibattito pubblico che avverrà il 25 febbraio, la presenteremo insieme, è stato un atto di attenzione, di sensibilità, proprio la volontà di non perdere tempo e di ascoltare tutti fino in fondo. Io credo che tutti i sindaci, tutte le amministrazioni abbiano avuto oggi un'occasione preziosa di far emergere le loro perplessità, le loro criticità, le criticità che hanno riscontrato sui territori e che i territori chiedono di rappresentare e Rete Ferroviaria ha ascoltato anche con molta attenzione, dedicando ore e ore di tempo a questo ascolto per poi valutare tecnicamente le controproposte. Nessuno deve pensare di avere ragione a prescindere, vale per RFI, vale anche per i territori perché fare una ferrovia non si improvvisa e gli ingegneri ferroviari sono una disciplina e una specializzazione importante con parametri tecnici che devono essere rispettati, quindi non è facile far camminare un treno e metterlo sul retaglio, noi dobbiamo avere da un certo punto di vista l'umiltà di comprenderlo e di capirlo, la cosa importante è che tutti hanno risottolineato e questo me lo ha anche fatto notare con piacere la coordinatrice del dibattito pubblico che c'è condivisione da parte di ogni attore della importanza e della necessità che questa opera venga fatta. Le filosofie di approccio anche a livello europeo portano a dire che non dobbiamo consumare nuovo territorio e se il treno ha le proprie stazioni in prossimità o all'interno delle aree urbane viene usato più facilmente dai cittadini mentre se lo spostiamo fuori e le stazioni vanno a finire lontano dalle città ci si arriva con la macchina. È chiaro che quello che noi abbiamo raccomandato e continuiamo a chiedere a RFI è di valutare e anche predisporre le soluzioni alternative, le varianti, le diverse valutazioni sulle diverse possibilità di tracciato e di intervento in modo che la scelta tra l'una o l'altra delle soluzioni possa avvenire in maniera consapevole, documentata e trasparente e per finire anche in maniera partecipata. Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara. La variante che utilizza il binario verso l'interporto è qualcosa di assolutamente fattibile. I problemi ci sono per Chieti, Chitiscalo e San Giovanni Tiatino dove la proposizione mia e del sindaco di San Giovanni è stata accolta con riserva, ma il vero momento di confronto è la conferenza dei servizi. Dovremo convincere maggiormente i nostri interlocutori della esigenza di interrare la ferrovia nei nostri territori per salvare non solo l'economia dei nostri territori, ma anche ovviamente l'ecosistema. Il sindaco di San Giovanni Tiatino, Giorgio Di Clemente. Non mi arrendo, non ci arrendiamo perché c'è la fattibilità, come è stato detto dai ferrovii dello Stato con il loro progetto, come abbiamo detto noi oggi con un progetto che abbiamo portato e con tutte quelle che sono state le parole giuste e adatte per il lavoro. Quindi a mio avviso non ci fermiamo perché è fattibile, quindi sì è dura ma è fattibile, ma la stessa cosa anche Chieti Scalo. Noi abbiamo queste due realtà che oggi sono schiacciate da quella che è questa linea ferrata che ben venga come linea di raddoppio di modernità e tutt'altro, ma non in questo modo. Quindi insistiamo con l'interramento o diamo anche un'altra alternativa. Oggi abbiamo mostrato anche un altro tracciato, anche se per adesso è provvisorio, un tracciato che va proprio a spostare sotto la collina tra San Buceto e San Giovanni la linea ferrata, liberando completamente quello che oggi è un peso che purtroppo ci sta schiacciando e togliendoci veramente questa spina nel cuore che ci sta facendo male. Il sindaco di Manopello, Giorgio De Luca. Il territorio deve essere raggiunto, l'interporto deve essere raggiunto sia da Roma che da Pescara e questo ci consente di essere fiduciosi in questa variante che la regione deve sospingere fortemente a RFE. Contrario a questo progetto anche l'ex sindaco di San Giovanni Teatino, Vincenzo Marinucci. Ho detto anche al tecnico di Ferroviello Stato che è un ingegnere che purtroppo per difendere lo Stato non è che può mortificare una collettività che già tanto ha subito nel corso degli anni l'aeroporto, l'assattrezzato, la ferrovia. Adesso bisognava lavorare per la salute dei cittadini e loro la complicano. Quindi ho detto che probabilmente un'azione sovversiva del territorio è giusta e legittimata. Di parere opposto 16 sigle sindacali e di categoria dell'Abruzzo per le quali il raddoppio rappresenta una priorità assoluta e quindi non vanno alimentate le proteste dei cittadini. Secondo Agici, Casa Artigiani, CIA, CLAI, CNA, Confapi, Conf Artigianato, Conf Commercio, Conf Cooperative, Conf Esercenti, Conf Industria, Lega Coop, CGL, CISL, UIL e UGL. Scrivono in una nota che, come sempre avviene quando i progetti insistono su territori già urbanizzati, l'impatto sulle comunità locali può produrre disagi che, tuttavia, non possono diventare motivo di impedimento per la realizzazione o per mettere in campo progetti alternativi definiti fantasiosi se non irrealizzabili.